allora ciao mire niente qua siamo parlo col padrone di casa ha dato la sua approvazione che tu puoi fare i lavori ma ne faccio vedere qua c'è sta nel mattone c'è sta la farina la c'è sta il sì bianco qua c'è sta la malta per le mattonelle qua c'è il sì nero fischia qua c'è la bicicletta qua c'è la mini moto qua c'è per le fughe le altre mattonelle l'altro cemento cerchione copertone altre mattonelle che ti devo dire qua c'è il coso per gli attrezzi quando vieni per fare il motore manca solo mire fischia fai fe a te aspettiamo alla grande un bacio vediamo se si gira non si gira mire se no ti faccio non si gira ma eccoci mire a te aspetta senza barba guarda che sto bello sembra un ragazzino di 20 anni e niente tutto qua